non do let podcast da veterani per patrioti questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor ardito jean distillato con onore buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del non do let podcast oggi è nostro ospite giuseppe sposito ciao giuseppe ciao ciao luca buonasera buonasera a tutti in realtà avevamo delle amicizie comuni non ci conoscevamo fisicamente sei un alpino paragonista in congedo giusto esatto esatto un ex ranger in congedo da circa quattro anni e mi ha fatto piacere raccontare la tua storia perché poi al dire del fatto che magari che c'è sempre quel fil rouge dalla transizione del fatto che tu hai fatto la tua carriera hai fatto le tue esperienze poi in realtà sei andato in azienda per fare una roba una cosa magari anche diciamo con un impiego sottostimato rispetto alle tue capacità in realtà si sono accorti che sei bravo e ti hanno dato tutt'altro da fare per il valore che rappresentavi quindi era una storia particolare quando ne abbiamo parlato e mi faceva piacere raccontarlo no che ci sono anche delle persone lungimiranti che poi riconoscono il valore dei veterani esatto io a causa di un problema burocratico diciamo che c'è stato non ho potuto fare subito la parte operativa all'interno dell'azienda come operaio e ho ripiegato facendo un lavoro un lavoro d'ufficio un lavoro di public relation con i vari clienti eccetera da lì hanno notato la capacità comunque di organizzazione quant'altro e appunto la mia azienda è stata una delle prime che io sappia a sfruttare le capacità organizzative comunque del comparto delle forze armate che comunque sono abituati a lavorare sotto stress abituati a lavorare condizioni diciamo di difficoltà e di arrangiarsi e il problem solving è fondamentale soprattutto quando ci sono interessi anche economici importanti in ballo quindi sono rimasto molto contento di questa cosa quante persone gestisci inizialmente quando sono arrivato in azienda c'erano circa 60 65 persone più o meno che che giravano quando ho cominciato a prendere il ritmo e ho visto che comunque mi piaceva il rapporto con il cliente il procacciare appunto anche il lavoro ad oggi sono arrivato ad avere 160 persone circa da gestire con un turnover di 10 persone più o meno 10 persone ecco in base alla stagione secondo me è una storia molto bella no al di là poi del fatto che magari io sono di parte no alcune aziende non sanno neanche qual è il potenziale no sanno che c'è lì una persona che ha indossato un uniforme magari è stata all'estero ha maneggiato dalle armi e tanti hanno un po' il paraocchi e lì si fermano no e non vedono poi invece tutte le altre capacità sia un caso più unico che raro in questo paese sì sì effettivamente durante il mio servizio sono sempre stato messo nelle siamo sempre stati messi perché comunque non si lavora mai da soli ma è sempre un gruppo molto affiatato col quale vivi insieme 24 su 24 per anni e quindi tante volte ti danno un obiettivo da raggiungere senza dirti magari come raggiungerlo e quindi a quel punto metti metti in ballo il cosiddetto ingegno italico dove riesci ad arrangiarti con quello che hai a fare il massimo il massimo che puoi e a volte anche anche oltre più che altro è che magari tu ti immaginavi di dover assolvere un compito in un modo ma come sai bene in realtà non ci si riesce bisogna fare tutt'altro ecco sì esatto esatto la pianificazione è la cosa poi dopo quando si fa quando si va a farlo materialmente non ho mai eseguito nulla come era stato pianificato in precedenza o comunque in base ecco quindi quella è la realtà dei fatti comunque quando sei sul come si dice sul tamburo no quando si fa l'organizzazione sul tamburo questo qui è la realtà dei fatti poi dopo sono sempre quelle cose che uno dice sì vabbè ma chissà beh io ti posso raccontare di atterraggi fatti in zone completamente sbagliate degli elicotteri rilasci magari dal lato opposto a quello pianificato negli obiettivi cioè uno dice vabbè ma cosa sarà mai beh se uno pianifica tutta un'operazione per andare da una parte da da un punto cardinale si trova in quello diametralmente opposto e non puoi fare nient'altro che improvvisare e improvvisare lì no e quindi esatto anche perché ci sono certe situazioni dove non puoi dire ah no vabbè non è questo qui il posto allora niente rifacciamo sai a bordo soprattutto dei velivoli in queste condizioni qui gps sì no più o meno vanno no poi scendi te ne accorgi quando sei lì da solo quello è già andato via nel silenzio dici ma sai cosa non è il punto giusto io penso che sia capitato a tutti almeno una volta guardi in faccia ma dove stiamo siamo a due chilometri il campo uguale sì effettivamente la parificazione c'è il casolare c'è quei disgraziati quei visori di vecchia generazione hanno fatto il possibile non è il punto giusto è bello che fregano tutti no poi la cosa tipica è tutti quanti fanno no le procedure quelle il sils no stop list and look smell si fermano tutti controllo carta quelli ti guardano non siamo nel punto giusto e sempre qui c'è quel silenzio c'è quel silenzio imbarazzante che prevede un attimo prima della cattiva notizia no che tutti sono lì che quando ti aspetta che c'è anche ti aspetta la snaiata brutale e non puoi fare nient'altro e te lo senti e te lo senti perché c'è quel silenzio che dura troppo quella quel controllo carta l'itinerario lo sapevano a memoria e loro loro se lo sentono è è soltanto chi chi lo ha vissuto no poi sa quanto poi si possa veramente improvvisare esatto ascolta te di dove sei allora io sono originario della campagna esattamente di castellammare di stabbia col cognome si esatto già per spoggio diciamo di bolzano non potevo essere sicuramente magari di una terza quarta generazione ecco mettiamola così però l'accento non è di giù sì perché comunque nella fine del 98 mio papà aveva dei problemi lavorativi dove abitavamo eccetera si è spostato a voghera in provincia di pavia per cercare fortuna diciamo si è dato da fare da solo quattro sei mesi circa dopodiché ha trovato una stabilità lavorativa ed economica e l'abbiamo seguito io e mia mamma mia sorella più piccola sono cresciuto lì ho fatto la seconda parte della quinta elementare e poi tutta la parte delle medie e superiori sai che hai fatto la stessa cosa che ho fatto io uguale nel 98 io sono stato dalla sardegna a milano nel 98 per le stesse ragioni sai cosa vuol dire ero quello ero quello vestito peggio è quello più povero tra l'altro della mia scuola anche perché a milano adesso adesso non so ma immagino le cose siano funzioni nella stessa maniera per quanto possa essere una scuola pubblica poi i ragazzini sono crudeli e guardano le marche una cosa molto dove sono cresciuto io non si usava quindi le marche non insomma se avessi avuto le scarpe da neck piuttosto che non si guardava io comprava la roba al mercato insomma quello che mi davano mi mette quello è una cosa che ho sentito tanto quando mi sono spostato tanto che mia moglie sa il trauma che mi porto dietro io adesso compro solo vestiti che abbiano una mare speso penso diverse decine di migliaia di euro in delle missioni investiti di marca perché non mi sono mai potuti permettere quando me li pagava mi doveva pagare qualcun altro a me guarda più che il discorso del bestiario eccetera che comunque mi sono ritrovato anch'io in una situazione del genere è stato proprio il fatto che oggi ci si attacca comunque si cerca di puntare i diversi che possono essere magari i ragazzini magari si possono accagnere contro magari qualche extracomunitare qualcuno che ha delle differenze di genere diverse e quant'altro fanno bullismo fanno bullismo esatto all'epoca non c'erano tutte queste differenze all'epoca c'erano soltanto i terroni che davano fastidio che comunque disturbavano la loro sai che accento avevo io immagini io sono un po più grande di te io credo di aver fatto la seconda la terza media e avevo un fortissimo accento sardo io quello che mi sono trovato tanto in difficoltà è che loro erano molto più maliziosi molto più avanti al livello di lessico e quindi non potevo competere quando magari mi prendevano in giro o venivo deriso non riuscivo tante volte né a capire realmente quello che mi stessero dicendo ma allo stesso tempo non avevano anche gli strumenti per rispondere a tono e l'unica cosa che avevo erano le mani sostanzialmente che a loro magari mancava un pochettino di fatti ho fatto passare un brutto periodo ai miei genitori l'ho passato anch'io ma l'hanno passato anche i miei genitori perché comunque io sono riuscito a darmi una raddrizzata intorno alla terza superiore ti dicono non è stato facile per i miei genitori perché comunque loro lavoravano sempre io e mia sorella siamo cresciuti da soli io ero un po più grande quindi ho sempre accogito anche mia sorella eccetera e sono stati periodi che comunque mi hanno fatto crescere abbastanza nonostante questo poi in realtà siamo delle persone normalissime io adesso mia madre faceva tre lavori per mantenerci e quindi sicuramente non ce la siamo vista bene perché però ovviamente so di non essere la persona migliore del mondo ma sono perfettamente integrato nella società e un po' anche effettivamente mi vergogno poi magari di certi comportamenti che ho avuto quando ero adolescente però tutto sommato c'è redenzione per tutti siamo padri di famiglia abbiamo un lavoro siamo produttivi per la comunità no c'è chi le case le case popolari poi non è riuscito a levarsene di dolce ci sta conosco il tipo di ambiente nel senso capisco di cosa stai parlando e io una cosa che posso dire che mi ha dato la forza e lo stimolo di uscire da questo loop all'interno del quale se non hai qualcosa su quale focalizzarti non ne fii io sono cresciuto da quando ero piccolo nel 96 97 sono rimasto impressionato dalla fiction ultimo che era uscito nel 97 quella color bova esatto 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 ah ma ti ha stimolato a sì io da grande voglio diventare così io da grande voglio diventare così era l'unica cosa alla quale io pensavo io ho letto i libri per esempio ognuno poi c'ha il suo no alla fine è andato anche bene perché immagino l'esercito mi abbia salvato un po ma poteva essere diversa la vita privo che quel periodo di m sarebbe finito raggiunta l'età per poterlo fare io avrei fatto quello di lavoro ti sei arruolato per andare in polizia no io in realtà mi sono arruolato per andare perché poi dopo sai le cose cambiano poi dopo maturi esatto comincia a capire tutto il resto il mio obiettivo era passato da diventare il capitano ultimo ad entrare nel gis specialmente tu non conosci il mondo quindi sei preso dal passamontagna dall'elmeto il giubbotto antiproiettile le armi speciali che hanno quindi vuoi non vuoi non stiamo a prenderci in giro è quello che stimola la fantasia di un ragazzino di un bambino a spingere ad unirsi a questi corpi sì c'è la curiosità di quello che non si conosce no esatto comincia ad acculturarti sono entrato nell'ampdi prima di arruolarmi nell'ampdi del mio paese anch'io all'interno del quale c'erano un paio di incursori del non reggimento quindi da lì sono stato deviato dal gis punto verso il non reggimento mi arruolo faccio il rav nel 2010 io avevo fatto domande inizialmente nel 2008 preso non mi sono presentato la prima volta perché avevo avuto altre cose per la testa a quell'epoca avevo già un lavoro a tempo indeterminato in un'azienda dove facevo il saldatore guadagnavo i miei 2200 euro al mese quindi per un attimo mi sono fatto forviare dal mero dio denaro quindi tu sei uno di quelli che poi in missione faceva le saldature tu sei uno di quelli che costruiva dalle griglie alle modifiche per il vtlm tu sei uno di quelli capito il personaggio il deus ex machina e sì perché io conosco un paio di ex fabbri ex saldatori loro tutti appena arrivano in teatro tirano fuori la roba mettono e iniziano pantano i cini corti bruciati dappertutto e iniziano a saldare esatto fanno 4 5 mesi di saldature l'unica cosa che ho cercato di spiegare a chi voleva darmi una mano è che un flessibile da 2000 watt non si attacca ad un inverter attaccato alla batteria del vtl da 700 watt quello lì è stato un po più difficile da far capire se chiedi il nostro amico comune ti dirà che il mio nickname era peppe tutte cose conosco anche dei mani aggiusta tutto quelli sono quelli sono i veri problem solver quelli come voi che mi segui guarda si è rotta con la roba non ti preoccupare quella sistemo io sono due tipologie quelli che riparano e poi ci sono i trovarobe no i trovarobe quelli che conoscono quello che ti può far avere quello che ti manca perché poi c'è no ma non ti preoccupi che ti serve cosa e no guarda il gelato gelato non c'è ma non tipo conosco uno che conosce uno e torna col gelato dove cazzo gli hai trovati in afghanistan i cornetti no non ti preoccupi ci sono quelli là in cambio di una patch ranger tu puoi tornare in base con di ogni credimi con una patch che tu regali alla persona giusta per ottenere i favori di chiunque o la birra per chi non poteva bere quindi non aveva accesso ma lo sanno tutti ma tutti fanno finta di non saperlo quanti caricatori e quante iron sight degli m4 grip sono portati via con sei moretti dai moretti non andava bene se no c'era l'ail che in scaduta che sapeva di lattina quando la quando la aprivi baratto è ancora in buona parte del mondo è ancora la forma di mercato quella più valida è vero è vero la cosa migliore che ho scoperto in afghanistan grazie a uno degli anziani diciamo le nutelline quelle monodose messe nel freezer e mangiate come cioccolatino d'estate c'è ragazzi quella roba quando ti mancano gli affetti su qualcosa devi ripiegare esatto esatto no e c'erano quelli che hanno iniziato lì purtroppo con la dipendenza da rani la bevanda alla frutta che dentro avevano si facevano cadere i denti come il crack dove c'era della gente io mi ricordo dopo quando finivi sembravi un tossico che aveva bisogno delle metanfetamine dovevi spaccare la lattina per mangiarci la frutta perché dentro c'era la frutta sciroppata e si no ho scoperto e non scherzo che l'hanno ritirato dal mercato credo per un colorante o un dolcificante illegali era come la tiger avevate la red bull la tiger la tiger non me la ricordo però mi ricordo quelle con i pezzi di aloe dentro ah sì ma quelle ci sono quelle le vendono anche da noi adesso però lì sono arrivate con qualche anno di anticipo quando le bevande con dentro l'aloe che hanno più zucchero della coca cola sono sempre quelle bottigliette verdine perché loro col colore verde a livello inconscio ti vogliono trasmettere che è una cosa naturale lì di naturale salutare non c'è assolutamente niente ci sono i pezzettini di aloe che navigano nell'acqua e zucchero ed effettivamente c'erano già nel 2010 poi qua adesso li trovi anche a vendere insomma nei supermercati normali eh sì sì è vero è vero quindi dimmi tu ti sei arruolato ho fatto il rav a verona una mattina che stavo facendo la fila per andare a mensa per fare la colazione ho visto un plotone all'epoca non sapevo che fossero ranger che si addestrava all'interno della duca nel cqb io lì sono rimasto fulgurato non ci ho più visto quindi ho detto basta ho cambiato ancora idea ho detto basta voglio andare lì non conoscevi nessuno in realtà no no dei ranger nessuno e tu che cosa hanno detto della tua scelta già lavoravi generalmente i genitori sono protettivi no quindi ma chi te lo ho fatto esatto mio papà avendo vissuto tutta la parte mia adolescenziale mi aveva dato tipo una settimana di autonomia non era molto contento perché pensava che visto l'inferno che gli avevo fatto passare e per il tipo irascibile che ero all'epoca non sarei durato dall'interno della forza armata perché comunque il fatto di seguire delle regole ferre rispettare la gerarchia e quant'altro non sarei durato molto però in realtà ancora mio era l'unica roba che volevo fare cioè era l'unico scopo della mia vita quello tra l'altro nessuno ma mi aveva dato due lire al termine delle medie mi volevano spedire fare una scuola professionale di bassissimo rango dove buttano gli scarti diciamo che sanno che non concluderanno mai nulla fortunatamente sono riuscito a diplomarmi in elettronica e telecomunicazioni mentre la sera lavoravo quindi ho fatto tutti i cinque anni di scuola dove io alle sei attaccavo al ristorante lavoravo fino a mezzanotte e mezza luna di notte per tutti e cinque gli anni delle superiori sono riuscito neanche a farti bocciare quindi tanto di cappello senza mai farmi bocciare senza mai farmi bocciare quindi ho superato anche discretamente apportando appunto le nozioni che poi dopo la spada di damocle delle telecomunicazioni sulla mia schiena mi sono appassionato molto la branca medic e quindi ho dovuto portare in parallelo perché di medic ce n'erano magari qualcuno in più di esperti delle telecomunicazioni c'era qualcuno in meno il radiofonista non lo vuole mai fare nessuno non lo vuole fare nessuno dici ma lì c'è le radio noioso deve programmare portare portarsi le batterie è sempre lì che sta a trigare per trovare i segnali insomma non lo vuole fare tutti vogliono fare il medico il medico è figo il medico è figo il medico è figo poi dopo sai il medico salva le vite no nei film è quello che cucca il radiofonista ma quando ma dimmi un solo film dove si vede il radiofonista che fa è una personaggio eroica di solito ha gli occhiali è un nerd il radiofonista muore il radiofonista muore si muore quasi sempre subito nessuno lo vuole fare diciamo che la cultura cinematografica ci sta rovinando il mestiere no è che ora la tecnologia è anche un po diversa quindi da quando insieme a tutti gli apparati quelli standard sono iniziati ad arrivare gli smartphone i tablet i pc allora c'è un po più di interesse no perché già era un po smanettone magari si trova ad essere un po più tecnologico quando era solo l'hf da portare a spasso ecco quella non la voleva nessuno a me la roba più figa che mi è passata per le mani è il il tough book il panasonic col quale o programmavo le harris o scusami le verdi o le nere e la parte di gps navigazione eccetera quindi poi tra l'altro io mi sono ritrovato la mia prima missione che è stata una sarissa quindi ancora nella tf 45 a smantellare la tf 45 la mia seconda missione invece è stato rimontare tutti i mezzi che erano stati praticamente cannibalizzati e quindi da lì rifare tutta la parte di cablaggio la parte elettronica fare le staffe di supporto la giocavi tra saldature cablaggi sì esatto quindi per questo io rimanevo ancora la sera con la mia torcia frontale a far passare ho fatto andare milioni di fascette da elettricista quindi posso dire di aver visto dei ragazzi della sala radio e quindi neanche operatori che poi l'operatore può intervenire fino a un certo punto magari in determinati teatri dove solo maggiormente sono ragazzi della sala radio a preparare dei pick up ma fa scorrere i cablaggi sotto le imbottiture interne dei mezzi io penso neanche proprio devi andare proprio da quelli che ti fanno le modifiche per gli impianti stereo macchina per avere vedere delle capacità del genere molto molto professionali negli ultimi anni voi non vuoi l'operatore non sarà mai competente come uno specialista appunto cioè nel senso non puoi pretendere di essere più competente di un operatore della sala radio che ti allestisce e ti gestisce magari dieci apparati diversi tu hai delle conoscenze di sopravvivenza giusto per non rimanere a piedi e non perderti capito però poi quando tu avevi bisogno di qualcosa andavi sempre da loro ti devo dire ho trovato una disponibilità incredibile nei nostri confronti e una professionalità appunto invidiabile veramente in realtà non abbiamo intervistato mai nessuno delle delle comunicazioni nel senso nessuno dei reggimenti ha detto le comunicazioni un po perché ovviamente c'è tutta la parte del comsec della secretezza delle comunicazioni quindi più di tanto non si può dire però per chi magari non sa come funziona generalmente tutta la parte comunicazione all'estero non viene gestita dagli operatori in autonomia ma ci sono gli attachment che vengono da cos'è le onessa dei reggimenti comunicazioni no come i ragazzi della maddaloni che cucinano per tutti gli italiani all'estero esatto poi in realtà ora ci sono tutte delle altre missioni dove non fisicamente non possono venire quindi devono farti il customer care da remoto devi chiedere a telefonare e guarda non mi funziona questa cosa gliela devi spiegare come la vedi quindi da troglodita qui c'è un tasto rosso io lo schiaccio si accende questa luce e lui prova a dirti no va bene allora fai così in fila e per le cose pazzesche poi se lo racconti sembri pure strano grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogen.com non do let podcast da veterani per patrioti www.arditogen.com